Il vice sindaco Ottavio De Martinis e il consigliere Angelita Palumbo ex Forzisti, l'assessore Ernesto De Vincentis e il consigliere Corrado Di Battista eletti in quota a Montesilvano Futura e il consigliere Adriano Tocco entrato a Palazzo di Città con il simbolo di Montesilvano in comune. Sono questi i componenti del gruppo consigliare della Lega Salvini Premier a Montesilvano. Ieri presentato ufficialmente dal segretario regionale Giuseppe Belachioma e dal commissario provinciale Gianfranco Giuliante. In realtà il simbolo della Lega a Palazzo di Città era entrato già qualche mese fa con i consiglieri Aurelio Cilli, Stefano Di Blasio e Mauro Orsini ma poi c'è stato lo strappo che oggi vede da un lato i tre consiglieri raggruppati sotto il nome di Lega Montesilvano e dall'altro il gruppo ufficialmente presentato nella giornata di ieri. La porta è sempre aperta, hanno detto sia Giuliante che Bellachioma che non escludono un possibile ritorno dei tre dissidenti, anche se sembra al momento molto complicato. Con rammarico e con un po' di dispiacere abbiamo constatato e verificato che chi ha adalito a questo partito probabilmente non ha capito ancora come funziona la Lega, quali sono le regole, quali sono le gerarchie e quindi oggi sono venuto di persona a mettere un po' di ordine nel senso che comunque ho ufficializzato il gruppo Lega Salvini Premier con l'ingresso del vice sindaco, dell'assessore di tre consiglieri lasciando comunque sempre le porte aperte a chi c'era, a chi c'è stato e a chi ha voglia di far parte di questa squadra e di questa famiglia. I rappresentanti locali della Lega hanno sottolineato comunque come sia importante far sentire la propria presenza in una città che si appresta anche ad andare alle elezioni. Entriamo nel Consiglio Comunale di Montesilvano con una forza importante però io ritengo che da qui oggi parte un percorso che poi porta alle prossime elezioni amministrative poi anche lì, come spesso accade e come ha detto anche il mio commissario provinciale ci sederemo con gli alleati, con il centro-destra e capiremo quali sono gli equilibri e cosa si dovrà fare non soltanto su Pescara, su Montesilvano ma anche in tutti quei comuni che torneranno al voto.